Le fotografie con l'eraica, gli ispezioni di pellicola, il provera Rata che era l'operatore fece sempre un miracolo perché abbiamo lavorato con tutto, con positivo, con negativo, con internegativo, con qualunque cose, queste sono state le enormi difficoltà che ci abbiamo avuto per fare il film. Difficoltà che però non ti hanno impedito di realizzare una delle sequenze più dinamiche, più emozionanti, concise, che siano state fatte nella storia del cinema italiano. Proprio da questa porta si affacciava Fabrizzi con il bambino recalcitrante e si vedeva la Magnani che ricorreva il camion con i partigiani.